Quello che ho appena finito di leggere non è un brano del Vangelo secondo Giovanni e neanche secondo Matteo o secondo Luca o secondo Marco o secondo Chi ve parla a Boate queste erano le levi del Chilimangiano di Ernest e Hemingway e la metafora della Iena come simbolo di morte dovrebbe farmi riflettere tu il premio il premio adunerò sarà una medaglia o forse sarà un pacco di sorprese di Natale poi sarà bello però no? ah si? allora fatemelo sentire in coro tutti insieme ma bello forte però eh dai chi si ha detto di venire? dai Fulvio Colombo ci ha scassato casa mi chiamerei Miena è sempre mia però eh anche anche l'Italtoa mi piaceva Antonio Sciacci oh Quello era Bobby solo? No, Bobby solo e Roberto Tanti Ah già, Bobby, Roberto, c'è la cultura proprio Cos'è? Barbon, un cocktail a base di barbon No, no, grazie Non lo vuoi? Sai come lo chiamava questo Emigui? L'ammazza gigante Qui certe noti quando c'è la bassa marea Puoi vedere gli animali che passano da un'isola all'altra Bisogna stare attenti però perché è pericoloso Puoi arenarti Ma con Ia non c'è problema Conosce le maree come le sue tasche Dove vai? Dove vai? Come le sue tasche? E non infierire, anche io può sbagliare, no? E poi non è bello qui, non ti piace? Un passo vale l'altro per dormire Stai attento al pesce pietra